A Natale puoi Fare quello che non puoi fare mai Riprendere a giocare Riprendere a sognare Riprendere quel tempo Che ricorrevi tanto E a Natale, e a Natale si può fare di più Benvenuti ragazzi Finalmente oggi faccio un tutorial per l'Ukulele Un altro tutorial per Natale Quindi oggi guarderemo a Natale puoi Del ragazzino o ragazzina Non so chi è, cosa fa e come canta questa canzone Questa canzone è davvero Abbastanza facile in questa tonalità Sia per l'Ukulele sia per qualsiasi altro strumento Tonalità di Do Andiamo a vedere gli accordi di questa canzone Allora, praticamente questa canzone è abbastanza facile Perché si suddivide in due parti Quindi abbiamo strofa e ritornello E gli accordi sono sempre gli stessi Quindi alla fine abbiamo 4-5 accordi Ok? Allora, iniziamo a vedere la strofa Tutta la canzone si basa Praticamente su questi due accordi Che sono il Do maggiore E il Fa maggiore Ok? Quindi, iniziamo con la prima parte della strofa A Natale puoi Do maggiore Fa maggiore Fare quello che non puoi fare mai La minore E ancora Fa maggiore Ok? Quindi sono tre accordi in tutto 4 Andiamo a vedere questi tre accordi Abbiamo il Do maggiore Terzo dito sul terzo tasto della prima corda E suoniamo tutte le corde Poi Fa maggiore Primo dito sul primo tasto della seconda corda E secondo dito sul secondo tasto della quarta corda Suoniamo tutte le corde Ok? La minore Alziamo semplicemente il primo dito Quindi secondo rito sul secondo tasto della quarta corda E ritorniamo sul Fa maggiore Ok? Quindi A Natale puoi Fare quello che non puoi fare mai La minore E di nuovo Fa maggiore Da qua c'è la scaletta Attenzione Riprendere a giocare Do maggiore Riprendere a sognare Re minore Ricorrere quel tempo Mi minore Che ricorrevi tanto E Fa maggiore Quindi abbiamo 4 accordi in scaletta di tonalità Cioè Do maggiore Re minore Mi minore E Fa maggiore Ok? Andiamo a vedere come si formano Gli accordi che non sapete Cioè Sono il Re minore Primo lito sul primo tasto della seconda corda Terzo lito sul secondo tasto della quarta corda Terza corda Amico fondo con la guitarra E il secondo lito sul secondo tasto della quarta corda Suoniamo tutte le corde Mi minore Primo lito sul secondo tasto della prima corda Secondo lito sul terzo tasto della seconda corda E il terzo lito sul quarto tasto della terza corda Ok? Semplicemente E ritorniamo sul Fa maggiore Ripetiamo tutto A Natale puoi Fare quello che non puoi fare mai Riprendere a giocare Riprendere a sognare Riprendere quel tempo Che ricorrevi tanto Ritornello da qui Attenzione Do maggiore Fa maggiore E a Natale E a Natale Si può fare di più Do maggiore Fa maggiore E a Natale E a Natale Si può amare di più La minore E di nuovo Fa maggiore Come avendo dato questa parte è uguale alla prima parte della strofa Ok? Finiamo con altri accordi Cioè E a Natale si può fare di più Direttamente sul Re minore Di più Per noi Fa maggiore E Do maggiore Ok? Quindi Riguardiamo tutta la parte Tutta il ritornello Quindi E a Natale E a Natale E a Natale Si può fare di più E a Natale E a Natale Si può amare di più E a Natale E a Natale Si può fare di più Re minore Per noi Fa maggiore A Natale Poi Do maggiore Ok? E poi si rincomincia A Natale Fare quello che non puoi fare mai E prendere a giocare E prendere a sognare E prendere quel tempo Che ricorrevi tanto Bazzi ragazzi Questo vi è finito Spero vi sia piaciuto Ditemi cosa ne pensate Se volete anche i tutorial Dunque le quali Soprattutto Noi ci vediamo Al prossimo tutorial Bella Ciao